buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato ultimo della serie dell'assieme cavo di prolunga regge 45 che con questo ultimo modello solido possiamo andare a costruire si tratta del connettore vero e proprio sostanzialmente è una serie di estrusioni e quindi partiamo subito con il nostro solito schema cioè andiamo a fare aprire un nuovo file apt sarà anche lui immagino in pollici poi andremo a controllarlo comunque adesso lo apriamo in pollici dividiamo lo schermo in due parti diminuiamo la zona destinata la nostra ipotesi mentre lasciamo un po più grossa la zona dove andremo a modellare andiamo a verificare le unità di misura e tutto il resto di questo documento allora unità pollice va bene l'angolo togliamo via mettiamo i gradi i decimali portiamoli a una discreta ed elevata precisione chilogrammo secondo applica chiudi unità di misura e opzioni decimali del nostro file che andiamo a sviluppare allora pollice grado chilogrammo otto cifre per le lineari e otto cifre decimali per i gradi applica chiudi sistema di riferimento sono diversi allora giriamo il nostro modello in maniera da portarci il nostro file che dobbiamo da qui leggere leggeremo i dati da portarci in questa situazione di destra possiamo usare questa planarità poi metterlo così e siamo allo quindi ok e questo diventa l'alto come in alto rimettiamo la nostra vista ok giriamolo perfetto e qui andiamo a scrivere che questa è la vista corrente usciamo dalla usciamo dal view cube e diamo che questa è la vista corrente inizio adatta alla vista perfetto il sistema di riferimento è lo stesso le unità di misura e decimali sono gli stessi possiamo cominciare il primo schizzo lo facciamo sul piano xy sarà di questo trapezoide trapezoide in cui però a cui nel modello nel nostro file di modello mancano manca questo pezzo allora io direi di fare subito uno schizzo perché probabilmente andiamo a leggerci se questo angolo qui o uno dei due angoli è un numero sono 128 65 sono dei numeracci quindi probabilmente è meglio che facciamo proviamo a vedere facendo lo schizzo e allora piano x y su questa faccia schizzo avvia schizzo su questa faccia linea 1 2 e 3 mi servirà anche la quarta e 4 ok poi fai coincidere questa con la proiezione di questa questa con la proiezione di questo questo la proiezione e questo con la proiezione andiamo a mettere due quelle un po di quote che tanto ci serviranno saranno tutte da accettare perché saranno tutte essendo frutto di proiezione ok questa no e abbiamo finito di metterle perché non abbiamo chiuso allora facciamo una cosa chiudiamocelo così le mettiamo tutte quelle che ci servono ok quoda punto 75 eccetta punto 5 eccetta e questa qua e per forza 18 38 questo è un numero che mi sa strano proviamo questa ecco qua 31 25 accetta ok quindi sappiamo come costruire la piano x y via schizzo linea ok chiudiamo dirigiamo quotiamo punto 75 punto 5 punto 5 punto 5 punto 5 e punto 31 25 punto 31 25 punto 31 25 due quote necessarie posizioniamo questo spigolo nell'origine e ci siamo andiamo a fare posta vista corrente come inizio ad alta la vista zoom zoom completamente vincolato fine estrudiamo andiamo a leggere di qua la quota di estrusione quindi questo spigolo da qui a qui ha una componente lungo z un po' strana ma ci teniamo questa componente contro il c di qua estrusione questa contro di ok e la prima lavorazione è finita di qua chiudiamo lo schizzo prima però salviamo il file file salvo con nome connettore connettore filmato trattato 0 0 0 0 0 prima versione salva seconda lavorazione proseguiamo con l'esterno abbiamo da fare questo scasso questo scasso cominciamo da questo quote no direi proprio di no questa ok e questa ok tutte e due dirette secondo una sola direzione 0 18 75 punto punto 0 18 75 punto punto qui ce n'è due qui ce n'è due perché perché devo aver preso un punto sbagliato esatto in realtà è un trapezietto perché qui c'è ancora un tratto allora vediamo se riusciamo a inquadrarlo però bene ok adesso si vede bene quindi c'è da fare questo trapezio vediamo anche questa lunghezza 0 100 0 0 0 125 e poi controlliamo l'ultimo vertice vediamo se vediamo il punto più o meno proviamo a qui a qui 0 21 875 quindi facciamo uno schizzo in mezzeria noi l'abbiamo estrusa tutta su un piano e allora andiamo subito a cambiare l'estrusione modifica lavorazione facciamola così così abbiamo quel piano già pronto per fare il nostro schizzo ok poi su questo piano qui facciamo un nuovo schizzo spegniamo chiaramente quello che dobbiamo spegnere e facciamo questo trapezio ok chiudiamolo poi cominciamo con le quote e mettiamo questo diretto secondo x perpendicolare partito un altro secondo perpendicolare questo a questo poi facciamo coincidere questo spigolo con questo con la proiezione dunque devo girarla perché questo essendo un taglio con la proiezione di questo poi facciamo anche coincidere questo punto con questo vertice e adesso mettiamo le nostre misurine ce ne servono due quindi ci serve questo e questo allora andiamo con questo per prima cosa misura da qui da qui 01875 secondo una sola direzione ctrl c vuota ctrl v ok e adesso facciamo anche questa altezza che dovrebbe ripristinare tutto questo ok abbiamo rimesso a posto maniera da mantenere la figura vediamo questa altezza qui 021875 ctrl c ctrl v ok fine completamente vincolato e lo dobbiamo estrudere di andiamo a leggere questa lunghezza di 0375 in tutte e due le direzioni ctrl v in tutte e due le direzioni a togliere e anche questa lavorazione è finita c'è qualcosa che non mi quadra e andiamo a leggere quello che abbiamo fatto le misure che abbiamo preso allora misura da qui da qui 0375 ctrl c estrusione eh sì ci ho messo esattamente il numero di prima non l'ho fatto ctrl v ok adesso ci siamo finalmente e adesso sì mi comincio un po' di più ora c'è da fare questo rettangolino qui a scassare direi di trovarci questo piano allora andiamo a leggerci di qua la misura di questo segmento 0125 quindi ci andiamo a creare un piano offset da questo dietro di 0125 ma non mi ricordo più se è giusto facciamo così ctrl v no questa è ancora quella vecchia c'è una testiera che non risponde vorrei che si fossero scaricate le pile nel bel mezzo dell'esercizio allora facciamo punto 1 poi mettiamo a posto ho sbagliato anche la direzione misura da qui da qui e un ottavo di pollice ctrl c chiudi quindi qua l'ho set piano di lavoro modifica vuota ctrl v ma nell'altra direzione mettiamoci un bel meno e adesso ci siamo perfetto adesso su questa faccia facciamo uno schizzo su questa faccia facciamo uno schizzo al solito tagliamo facciamo il nostro rettangolino andiamo a posizionarlo perpendicolare due perpendicolari non questa perpendicolare tra questa e questo e tra questa ok perché quattro quote necessarie beh sì due di non vedo il perché allora vediamo i vincoli perché di perpendicolare non ha messo nemmeno una adesso adesso sono tre e adesso sono due e le due sono l'altezza è 0.05 dunque quindi vale di due 0.05 secondo la y quindi qui secondo la y è questa quota di qua quota secondo y 0.05 e l'altra perché la misura se e l'altra è da qui da qui 0.09 375 ctrl c ctrl v invia fine recuperiamo la nostra vista estrudiamo questo a tagliare nell'altra direzione a tagliare tutto e anche questa lavorazione l'abbiamo portata a compimento allora andiamo a vedere girandolo ok anche qui mettiamo la stessa vista girandolo ok questo schizzo 1 lo tiriamo via così abbiamo di più ci manca la copia di questo il mirror di questa lavorazione dall'altra parte qui inoltre c'è un piano che ci dà fastidio lo spegniamo e facciamo subito il mirror allora mirror di questa lavorazione rispetto piano di riflessione è il piano yx o xy ok e anche questa lavorazione è fatta direi che l'esterno a parte questi due cilindretti sottotagliati e l'esterno ci siamo diamogli un occhio sì e adesso c'è da lavorare allora c'è da fare quei due cilindri ma l'esterno è fatto e poi cilindri tagliati e poi c'è da lavorare all'interno finiamo i cilindri e cioè l'esterno allora qui mi vado a recuperare un'inquadratura da cui poter leggere le dimensioni cominciamo dalla dimensione di ogni singolo cilindro qui sarà un raggio quello che mi dà 0.0625 e allora qui andiamo a fare il nostro schizzo mettiamoci nella stessa situazione ecco qua cerca via schizzo su questa faccia un cerchio e un altro abbiamo visto che era un raggio 0.0625 e quindi qui vado a fare un diametro 0.0625 per 2 adesso andiamo a controllare che sia tutto corretto torniamo di qua rifacciamo la misura esatto 0.0625 il raggio quindi qui abbiamo fatto 0.0625 per 2 perfetto e qui facciamo l'uguale poi chiaramente sono allineati e dunque qui per vederlo meglio mettersi così chiaramente sono allineati quindi qui cominciamo a mettere dei vincoli sull'asse su quell'altro asse sull'asse y locale questo è allineato con questo poi cominciamo a vedere se riusciamo a trovare la posizione centrale del cerchio in maniera da posizionarlo rispetto a uno di questi spigoli o questo in realtà ci saranno due posizioni rispetto a questo o a questo una direzione rispetto a questo o a questo allora andiamo qui mi rimetto in questa inquadratura vado a vedere se riesco a fare la misura allora spigolo lasciamo che si apra vediamo se col punto centrale è perfetto rispetto a qui è di 0,3125 quindi queste distano da dietro 0,3125 schizzo misura si è chiuso lo schizzo misura 0 virgola 0,3125 e poi dobbiamo posizionarle rispetto al a uno spigolo tutte e due vanno posizionate abbiamo ancora due quote necessarie quindi questo già che ci siamo potremmo spostarlo così e poi vedere e leggere di quali due quote allora misura sempre del centro da questo spigolo e abbiamo che la misura è un numeraccio 0 no non è un numeraccio 0,54,675 ce lo prendiamo così andiamo a quotare questo da questo con un bel ctrl v e diamolo ok scopriamo che effettivamente sta un po' fuori anche qui sta un po' fuori si vede che sta un po' fuori a occhio e croce secondo me succede la stessa cosa anche di là quindi potrei anche fare che così da qui a qui questo e questo stesso 17 andiamo a fare un controllo tanto per misura questo punto centrale da questo spigolo notate che è anche una componente sola e quindi giusta 0,544 3,750 voi avete scritto qui ok sono finiti i due sono finiti i due cilindri e andrebbero tagliati in mezzo mi sa che lo faccio dopo e adesso vado a farmi subito l'estrusione questo schizzo quindi è finito completamente vincolato fine e vado a calcolarmi di qua a leggere di qua la distanza tra questo spigolo e questo spigolo lungo l'asse y ed è 0,125 ctrl c e questo è il valore dell'estrusione qui chiudiamo modello 3d estrusione 1 2 0,125 un ottavo di pollice 0,125 oppure posso scrivere un ottavo andiamo a fare questo scasso interno che qui non c'è allora andremo a fare uno schizzo su questa superficie a disegnare un rettangolo di dimensioni diciamo congule questo è un po' più spesso però va bene poi andiamo a vincolare questo rettangolo allineiamo e 3 ortogonali perfetto andiamo a mettere una quota in lunghezza facciamo un pollice e ora andiamo a mettere la distanza di questo dal centro quindi per farlo quindi alla larghezza del rettangolo sostanzialmente per farlo occorre proiettare questa geometria qui in maniera da avere il centro poi quota da qui al centro la lasciamo qui e andiamo di qua a vedere quanto è quota misura anche qui io direi di non leggere possiamo anche fare dal centro dal punto centrale a qui e leggerla chiaramente sulla sola direzione x perché questa c'è anche una quota una posizione una componente su y che è l'altezza del cilindro se ci teniamo buona questa è la misura altrimenti potremmo misurare da questo spigolo a questo spigolo e dividere per due è la stessa cosa teniamoci buona questa lungo x control c chiudi e qui facciamo un bel control v e diamo ok e poi mettiamo l'altra distanza di questa identica proprio cliccando sopra a quella di prima c'è rimasta una quota necessaria perché vedete che questi sono ancora più chiari non ho definito la posizione mettiamo a posto questa posizione anche se la quota è una quota diciamo fittizia posso scrivere punto 2 e via ecco qui il concetto che io non lascio schizzi non completamente vincolati questa quota serve poco punto 2 punto 1 punto 3 punto 4 sono tutte buone a parte che basta che poi questo rimanga dalla parte esterna rispetto alla cilina però così va bene fine ed estrudiamo a tagliare fino a questa superficie qui fino a questa superficie qui e anche i due tagli sul cilindro sono fatti recuperiamo le inquadrature questa e questa perfetto e adesso vedete che qui è pieno qui invece è scavato c'è l'interno da fare e cerchiamo di capire come fa il nostro interno allora qui vedete che c'è allora questa parete sopra un pezzo non va fino in fondo la parete sopra quest'altra parete laterale anche qui c'è un pezzo che non va fino in fondo la parete in basso invece va tutta fino in fondo e questa parete di qua c'è ancora un pezzo che non va fino in fondo allora potremo farlo in tre quattro passaggi poi vedrete che finiscono per essere tre schizzi facendo che cosa allora io qui avvio uno schizzo su questa faccia e facendo su questa come prima passata la parte esterna diciamo la parte senza le tre cavità aggiuntive quindi questa 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 e ovviamente questa parte sotto quindi questa è la prima estrusione che faremo completa poi andremo a fare questa estrusione questa estrusione e questa estrusione quindi questa prima per questa profondità queste altre per questa due laterali per questa profondità perché anche sopra è la stessa cosa eccola qua eccola qua qui invece è una profondità differente comunque poi alla fine saranno un rettangolo qui un rettangolo qui un rettangolo qui con due questa e questa stessa profondità stesso schizzo questa diversa profondità un terzo schizzo allora io questo schizzo però lo metterei a posto anche perché così mettendolo perfettamente a ricalcare posso tirar più fuori le dimensioni e invece di doverle andare a leggere tutto sommato può essere anche comodo questo su questo spigolo questo su questo spigolo questo su questo spigolo ed estendiamo questo ed estendiamo anche questo e questa è la prima figura che andiamo a realizzare sulla stessa faccia del nostro modello con queste stesse dimensioni poi andremo a fare gli altri tre rettangoli allora vi schizzo su questa facciamo questa figura circa due tre ok andiamo a chiuderla andiamo a vincolarla tutto il resto perpendicolare qua qui si è proprio disfatta tutta la figura la recuperiamo spostiamo e spostiamo e spostiamo poi incominciamo a dire che questo e questo sono allineati penso proprio di sì non vado a misurarlo se volete potete andare a misurare come questo spigolo da questa riga questo spigolo da questa riga allora io qui mi limito a eseguire poi direi che oltre che essere allineati saranno anche uguali poi la perpendicolarità ha messo tutto il resto ha posto tutto il resto incominciamo a mettere qualche quota perché ci servono sei quote ancora due saranno sicuramente relative alla posizione ma le altre quattro sono dimensioni allora facciamo così quota un quarto accetta 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 poi facciamo anche questa quota qui e questa quota qui che immagino immagino male non è non sia la stessa però aspettate perché qui ho preso una sbagliata allora questa la tiriamo via quota e adesso accetta e da qui accetta e sono le stesse come è logico che sia e vabbè incominciamo quindi di qua ne manca una in realtà però vabbè vediamo la fine evitate di mettere quote sui punti notevoli punto 25 quindi quel punto medio come si è presentato l'ho scartato subito poi questa è punto 25 e lo facciamo subito questa è punto 375 questa distanza facciamo così contro c contro c quota contro v due ce ne servono ancora adesso dobbiamo dire quanto dista questo dallo spigolo e quanto dista questo dallo spigolo dopo di che dovremmo essere a posto due quote necessarie cominciamo a mettere questa da questa accetta e qui quota i contro v no 0 il contro v di prima 0,0625 e questa l'abbiamo sistemata io non credo che mettendo questo sia tutto perché c'è ah no sì c'è perché questa è lunga quindi si sistema anche questa perfetto allora qui facciamo o la lunghezza di questa quota qui o questa distanza qui facciamo questa distanza qui sperando che sia un numero di un ottavo di pollice il numero più facilmente gestibile quota da qui a qui un ottavo completamente vincolata profondità di estrusione qui stavolta non quota ma misura questa è la profondità di estrusione di mezzo mezzo pollice fatto e quindi di qua fine estrudi mezzo punto 5 a tagliare e diamo ok il primo foro è fatto il primo scasso all'interno adesso abbiamo da fare i due rettangolini sopra e sotto quindi per fare questo scasso qui allora avvia schizzo su questa faccia un rettangolo sopra un rettangolo sotto e uno sopra poi allineiamo possiamo anche allineare questo con questo perché sono esattamente uguali errore allinea questo con questo poi possiamo dirgli che sono anche uguali questo e questo questo e questo e adesso andiamo a mettere qualche quota perché qui mettiamoci questa lunghezza allora questo schizzo lo posso chiudere oppure posso andare a leggere qui le dimensioni senza chiuderlo vado avanti a leggere le misure dai ed è un ottavo quindi di qua quota 1 diviso 8 poi posizioniamolo quindi la lunghezza di questo da questo da questo spigolo a questo spigolo qui misura da qui a qui 0,0625 control c misura control v ok ci sono tre quota necessarie quanto è profondo lo spigoletto da qui a qui misura da qui a qui ed è 31,25 control c qui ho chiuso lo schizzo control v sono uguali due quote necessarie non è che mi manca qualche perpendicolarità mi sa di sì proviamo una quota necessaria una quota necessaria completamente vincolato questi vanno estrusi per misura questo spigolo punto 375 control c fine dello schizzo estrudi questo e questo una quantità voluta a tagliare ok e anche questi due scassi sono fatti ci rimane solo da fare lo scasso sopra facciamolo a via schizzo qui rettangolo a linea perpendicola dimensione dimensione un quarto dimensione di posizione non so che cosa ha preso ripetiamo da qui a qui questa lo spessore credo che ce ne sia rimasto uno cioè questo completamente vincolato fine estrusione misura un ottavo un ottavo estrudi a tagliare un ottavo anche questa è fatta in teoria i due oggetti dovrebbero avere la stessa massa lo stesso volume tranne gli errori adesso qui sistemiamo finiamo lo schizzo fine spegniamo anche questo schizzo e andiamo a fare il solito controllo dimensionale allora proprietà del nostro testo i properties fisiche molto alta già aggiornato e facciamo una foto per il momento per il momento la sposto di qua poi la riporterò sullo schermo chiudi adesso del pezzo che abbiamo modellato i properties fisiche molto alta e andiamo a confrontare riprendo la figura ok e scopriamo massa 2 0 18 73 71 2 0 18 73 71 area 2 94 42 11 55 volume 11 43 40 93 0 11 43 40 93 sono uguali fino all'ottava cifra decimale è la prima volta che ci capita quando su questa serie di ultimi esercizi in cui abbiamo fatto questo tipo di controlli e il motivo per cui c'è precisione fino all'ottava cifra negli altri non l'avevamo trovata è che qui le superfici curve non ci sono cioè ce n'è una che costituisce comunque una parte molto poco rilevante dell'insieme quindi i due pezzi sono questo pezzo è stato modellato esattamente come il modello fornito anche questo esercizio si conclude qui prossimi passi saranno l'assieme e la modifica dell'assieme al solito se vi è piaciuto il filmato mettete un like iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui nuovi filmati che usciranno il pezzo di partenza è fornito nei commenti e a questo punto non mi rimane che augurarvi buon lavoro e darvi appuntamento al prossimo filmato grazie